Covid calano i contagi ma 22 morti in 48 ore non ce l'ha fatta la donna data per deceduta venerdì dall'asle di caserta maspirata stamane a maddaloni morto anche il paziente campano curato con terapie alternative dal medico nuovax di teramo radiato dall'albo galleria umberto la curia in aiuto dei senza tetto continua l'azione di sgombero ma i clochard sono tornati nello storico monumento di napoli e infuria la polemica dopo lo stop ai pasti caldi ma interviene la curia che mette a disposizione i locali dell'archivio per l'emergenza freddo Salerno addio a Fasano con i big di centrodestra un minuto di silenzio e l'omaggio di Tajani i grandi elettori di Forza Italia hanno reso omaggio al deputato salernitano scomparso a 70 anni allestita la camera ardente domani funerali in Duomo con i leader politici BNL niente accordo dipendenti in piazza secondo sciopero nazionale in meno di un mese lavoratori e sindacati della BNL in presidio stamane in via Toledo contestato il piano di esternalizzazioni voluto dall'istituto di credito con tagli pesanti Allerta covid nel sannio tre vittime in poche ore è pesante il bilancio all'ospedale Sampio ma preoccupano anche i contagi nelle scuole i consiglieri di minoranza rivendicano la convocazione della commissione istruzione Ad Avellino il virus uccide lo storico primario di ematologia Ettore Volpe Parco del Fenestrelle via libera ad Avellino Il consiglio comunale ha dato il via libera dopo la firma dell'intesa con i comuni di Monteforte, Mercogliano e Atripalda Ora tocca alla regione Il consigliere Borrelli si farà promotore del progetto a Palazzo Santa Lucia Buonasera a questi titoli del nostro Tg Cala la curva del contagio da covid in Campania ma sono 22 i morti Non ce l'ha fatta la donna data per deceduta dall'asra di Caserta ma aspirata stamattina a Maddaloni Cala ancora in Campania l'indice di contagio da covid Sono 5930 i nuovi casi positivi complice il numero ridotto di teste e tamponi processati di domenica in tutto 45.916 i prelievi L'indice di contagio è al 12,91% 22 i decessi Intanto nel casertano è morta la 52enne di Casal di Principe ricoverata al covid hospital di Maddaloni Che il 19 gennaio scorso era stata data per morta dall'ASL mentre in realtà era ancora viva Ed è finito ai domiciliari per omicidio colposo il medico di Teramo Che aveva prescritto cure alternative ad un paziente residente in Campania Seguito solo telefonicamente che poi è morto Il medico conosciuto come Novax è stato arrestato e posto ai domiciliari Sullo sfondo la campagna vaccinale che avanza e l'inasprimento delle regole sul super green pass Cittadini divisi sul da farsi ma convinti dell'importanza della campagna vaccinale Non stiamo capendo niente e speriamo che ci diano delle regole certe e stabili Perché attualmente non abbiamo contezza di come comportarci Anche con il green pass con tre dosi posso essere comunque contagiosa per tutti quanti Ci vorrebbe in teoria ogni volta che entri da qualche parte un tampone Sono stata positiva al covid con due dosi Questi vaccini non ci aiutano a niente Ma stanno parlando pure di una quarta dose ma non la finiamo mai Basta essere un po' intelligente Se la malattia è sconosciuta e cambia la malattia Devono essere adeguate le regole alla malattia È semplicemente un obbligo inutile Perché tanto si infetta lo stesso pure con il green pass Continua l'azione di sgombero dei clochard Dalla galleria Umberto I di Napoli Dopo l'azione antidegrado del comune Senza tetto sono tornati ma intanto la curia mette a disposizione i locali dell'archivio Sentiamo Tornano i clochard nella galleria Umberto I di Napoli Dopo l'azione di sgombero del sindaco Gaetano Manfredi La situazione all'interno dell'antico monumento tra via Toledo e Santa Brigida Resta la stessa L'operazione di allontanamento dei senza fissa dimora Andrà avanti per sette giorni Ha detto l'assessore alle politiche sociali Ho scritto una nota in cui chiedo alle associazioni Le cui azioni sono lodevoli di collaborare con la dislocazione dei senza dimora Ora parte del piano dipende da loro Se continueranno a portare pasti caldi e assistenza Il nostro lavoro rischia di essere vanificato I locali dell'archivio della curia di Napoli Diventano un ricovero per i senza tetto A deciderlo è stato proprio l'arcivescovo Don Mimmo Battaglia In una nota si sottolinea che di fronte alle basse temperature di questi giorni Con il conseguente grave disagio per i fratelli senza dimora L'ufficio con Fraternite Ha trasferito in una sede provvisoria i materiali dell'archivio Custoditi fino ad oggi in via Duomo Caritas di Napoli e comunità di Sant'Egidio Hanno provveduto a ripulire e organizzare i locali Per disporre di un maggior numero di posti per l'accoglienza notturna Hanno pulito un po', sono andato tutti quelli che stavano qua a dormire Qualcuno ci aveva abbastanza retta, stante frate E' un'ottima cosa questa, era tanto tempo che si doveva fare una pubblicità di questo genere Purtroppo abbiamo avuto dei magistristi che non hanno fatto proprio niente per Napoli Speriamo che il sindaco riesce a fare quello che non ha fatto dai magistristi Un minuto di silenzio e l'omaggio di Tajani I grandi elettori di Forza Italia hanno reso omaggio ad Enzo Fasano Il deputato salernitano si è spento a 70 anni Sentiamo Il drappo e la bandiera del movimento sociale Sua prima casa politica adagiati sulla bara Ed un silenzio carico di dolore e commozione A Salerno, nell'ex sede di Alleanza Nazionale E' stata allestita la camera ardente per Enzo Fasano Il deputato di Forza Italia è morto all'età di 70 anni Era uno dei grandi elettori del Quirinale L'Assemblea degli Azzurri a Roma, preseduta da Antonio Tajani Lo ha ricordato con un minuto di silenzio E uno dei suoi più cari amici, Maurizio Gasparri Lo ha indicato come esempio di buona politica Enzo Fasano è stato il più fedele Che ha condiviso ogni scelta Che è stato accanto a me in ogni fase Anche in quelle più difficili E a volte anche ricavandone più un danno che un vantaggio Quindi Enzo è un fratello Un amico che resterà nel nostro cuore Nel nostro percorso per sempre Con grande dolore Dico queste cose perché non avrei mai immaginato Un evento del genere A subentrare a Fasano a Montecitorio sarà Rossella Sessa Ma ora non si parla di politico di Quirinale È solo il momento del dolore e della preghiera Le parole della futura deputata molto vicina a Mara Carfagna I parlamentari saranno convocati per consentire a Sessa Di partecipare all'elezione del Capo dello Stato L'unico precedente simile nella storia della Repubblica Risale al 1971 Per consentire ai grandi lettori di presenziare alle seque Sono state rinviate al pomeriggio Le operazioni di voto fissate per la giornata di martedì Lavoratori e sindacati della BNL in servizio In Via Toledo contro il piano voluto dall'Istituto di Credito Che dovrebbe tagliare 900 dipendenti Sentiamo Secondo sciopero nazionale in meno di un mese Dopo quello del 27 dicembre Per i lavoratori della Banca Nazionale del Lavoro A Napoli presidio davanti la sede di Via Toledo Il contrasto tra aziende e sindacate si trascina ormai da mesi Ed è focalizzato sul piano di esternalizzazioni voluto dalla banca Piano che coinvolge circa 900 lavoratori sugli 11.000 complessivi Per i sindacati si tratta di un'operazione di corto respiro Di cui la banca, inutile, non ha bisogno L'azienda attraverso questo piano Intende espellere dal perimetro BNL Circa il 10% della forza lavoro Cedendolo ad SRL di nuova costituzione Con zero dipendenti Che quindi non possono garantire né stabilità né crescita professionale Intende chiudere 135 agenzie Che si aggiungono a quelle già chiuse Intende, non ha previsto neanche un'assunzione fino al 2025 Ma ha previsto l'ingresso di partite IVA Noi a questo piano è da sei mesi che cerchiamo di dire all'azienda Di tornare sui propri passi Di rivedere la logica assurda che sta dietro questo piano industriale E quindi siamo intenzionati a continuare la lotta Nonostante i nostri livelli di produzione che sono stati alti Soprattutto nel periodo di pandemia Che è stato comunque complicato e difficile L'azienda non ha tenuto conto di questo aspetto E non vorrei fare altro che appunto Metterci in un'altra società Senza alcuna garanzia La cronaca di vieto di avvicinamento alla sua compagna E la misura cautelare applicata per maltrattamenti in famiglia E lesioni aggravate ad un 29enne di Benevento Finito al centro delle indagini coordinate dalla procura sannita Secondo l'accusa il giovane in varie occasioni E anche sotto l'effetto di stupefacenti Avrebbe picchiato la compagna con calci, schiaffi e pugni La donna sarebbe stata anche ferita ad una gamba Da un paio di forbici impugnate dall'uomo Da qui la denuncia e le indagini della squadra mobile 31 morti di Covid in Irpinia in 24 giorni E muore stroncato dal virus Anche lo storico primario di ematologia del Moscati Ettore Volpe Intanto psicosi contagio proprio in ospedale con oltre 100 casi Il Covid uccide ancora in Irpinia 31 le vittime che si registrano dall'inizio dell'anno E nelle scorse ore si è spento nell'area Covid Dell'ospedale San Giuseppe Moscati Il già primario del reparto di ematologia Il professore Ettore Volpe aveva 85 anni E' un brutto giorno per tutta l'Ispinia Ettore oltre ad essere un grande professionista Era un uomo di grande umanità, grande sensibilità E' stato il fondatore dell'ematologia di Avellino E non si è fermato solo l'ematologia E' stato il fondatore del centro trapianti di Avellino Trapianti di Midollo E diciamo ha evitato che tantissima gente della nostra provincia Andassi a fare i viaggi della speranza Con tutti i disagi che comportano E' stato uno dei fari della nostra azienda ospedaliera Ed è stato uno delle persone che ha portato cultura, umanità E senso di responsabilità Un grande aziendalista Intanto scatta la psicosi coronavirus salmoscati Dove nelle scorse ore sono stati accertati In ben due reparti Ematologia e medicina interna Cinque contagi tra i pazienti E poi casi tra gli infermieri, operatori sociosanitari e impiegati I contagi calano a livello provinciale 214 su 2183 tamponi processati Domani nuovo open day per i vaccini senza prenotazione Negli hub irpini che restano deserti E intanto incubo focolaio ad Ariano Irpino Circo 80 tamponi tra pazienti e personale All'interno della RSA Minerva A disporre lo screening il manager Morgante Dopo i primi casi emersi nella struttura Dora il covid nel sannio Bilancio pesante al Sampio Con tre decessi nelle ultime ore Preoccupano i contagi nelle scuole I consiglieri di minoranza Rivendicano la convocazione della commissione Istruzione Sentiamo il servizio Bilancio pesante Quello che arriva dai reparti covid Dell'ospedale Sampio di Benevento Nelle ultime ore si contano tre decessi Presso il padiglione Santa Teresa della Croce Hanno perso la loro battaglia contro il virus Un uomo di Napoli di 62 anni Una donna di caserta di 56 E un uomo di San Lorenzo Maggiore di 80 anni Ma ci sono anche due dimissioni E due nuovi ricoveri I posti letto occupati Ora sono 73 sui 103 disponibili E c'è cauto ottimismo Dall'azienda sanitaria locale Il direttore generale Gennaro Volpe Conferma anche il buon andamento Della campagna vaccinale E per quel che riguarda i bambini Ormai la popolazione pediatrica nel sannio È raggiunta dalla prima dose Di circa il 50% Da una settimana l'Asl ha avviato Anche la somministrazione Della seconda dose per i più piccoli E l'hub vaccinale di Ponte Valentino Dedicato alle famiglie Rimarrà aperto anche per il mese di febbraio E' un hub che è partito appunto Con Convintus Con i sindacati Mesi fa Per le attività produttive ed economiche Poi essendo un hub pronto L'abbiamo trasformato in hub pediatra E comunque stiamo utilizzando anche le famiglie Perché si stanno vaccinando Famiglie complete Di dipendenti delle aziende E con i figli Numeri importanti Abbiamo superato le 6.000 vaccinazioni Tra bimbi e adulti E stiamo continuando E continueremo Per l'intero mese di febbraio Preoccupano invece i contagi Nelle scuole circa 100 Le classi in dad Sul tema prosegue lo scontro Tra opposizione e maggioranza Con i consiglieri Megna, De Longis e Miceli Che rivendicano la convocazione Della commissione istruzione E l'ASL di Salerno Accelera con la campagna di vaccinazione Nelle scuole Nel weekend sono previste somministrazioni In diversi istituti E il responsabile covid dell'ASL Arcangelo Saggese Tozzi Dice Omicron E' temibile Dobbiamo raggiungere il 90% dei vaccinati Intensificare la campagna vaccinale Per provare a fermare la diffusione del virus Nel giro di un mese E' l'obiettivo dichiarato dall'ASL di Salerno Che sta predisponendo nuove iniziative Per incrementare la percentuale di cittadini vaccinati Dobbiamo resistere un altro pochino Se riusciamo a chiudere la campagna vaccinale A raggiungere un 90% diffuso In tutte le classi di età Continuiamo a tenere un pochino Gli atteggiamenti di precauzione Probabilmente fra un mesetto Potremo respirare molto bene La prima azione riguarderà le scuole Nel prossimo weekend Infatti diversi istituti superiori Si trasformeranno in hub vaccinali Dedicati alla popolazione scolastica Abbiamo già raggiunto il 33% Di questa classe d'età vaccinata Che però rispetto ai più adulti E ancora un po' più indietro Abbiamo bisogno di fare un rinforzo Questo rinforzo lo faremo Anche recandoci direttamente Presso le scuole Ci aiuterà in questo senso Anche l'arrivo di una nuova formulazione Di vaccino Pfizer Che dedicheremo appositamente A questa classe Che è un vaccino già pre-infialato Per cui non avremo il problema Della diluizione Serve un'accelerata Anche per la fascia Che va dai 5 agli 11 anni Per la quale Sono state somministrate 13.000 prime dosi Abbiamo ormai vaccinato Più della metà Più del 52% Degli iscritti in piattaforma Che però sono ancora In meno di quelli Che possono farlo Per cui invito le mamme Invito le famiglie A continuare a iscrivere I ragazzi in piattaforma Intanto la deputata Del Movimento 5 Stelle Virginia Villani Ha chiesto all'asla di Salerno Di attivarsi Per la stabilizzazione Degli infermieri precari Dell'azienda Parco regionale Del Fenestrelle Il comune di Avellino Ha dato il via libera Dopo la firma Dell'intesa Con i comuni Monteforte Mercogliano E a Tripalda Ora tocca Alla regione Il consigliere Borrelli Si farà promotore Del progetto L'istituzione Del parco urbano Di interesse regionale Del Fenestrelle È giunta in consiglio Comunale ad Avellino Unico punto All'ordine del giorno Di una seduta Monotematica Di grande importanza Per il futuro Di quest'asta fluviale Che attraversa Il territorio Dell'Interland Dopo decenni Di progetti a vuoto Sono stati finalmente Approvati gli atti E il protocollo D'intesa Siglato con a Tripalda Mercogliano E Monteforte Ora le premesse Per creare il nuovo ente Ci sono tutte La pratica Passa alla regione In aula Anche il consigliere Regionale Francesco Borrelli E i sindaci E gli amministratori Dei comuni coinvolti Sicuramente Noi daremo Tutto il supporto Possibile Affinché si realizzi Anche se Non vi nascondo Che noi siamo In una fase In cui stiamo Ripensando Anche la gestione Dei parchi Perché in alcuni casi Sono dimostrati Assolutamente inefficaci Nel tutelare l'ambiente Una volta costituito Il parco Avrà un presidente Di nomina regionale E una sua autonomia giuridica La cabina di regia Sarà formata Dai quattro sindaci Dei comuni attraversati Questa terra Mi auguro E sono assolutamente convinto Che ci sarà L'impegno Il protagonismo Dei quattro consigli Regionale Eletti Su questo territorio Trasformare le aree fluviali Che attraversano Benevento In una risorsa economica E sociale Per i cittadini E anche per l'economia E questa La mission Dell'assessorato Ai lavori pubblici Lungo sabato Bulevar Passeggiata pedronale Lungo il fiume Calore Parco archeologico E del Verde A ridosso della confluenza Di due corsi d'acqua Sono questi alcuni Dei punti Della città di Benevento Al centro di un progetto Meglio allo stato Di un'idea Messa in campo Dall'assessorata L'urbanistica Retto Da molli Chiusolo Obiettivo principale Valorizzare i fiumi Che attraversano La città Creare delle aree Funzionali E sfruttabili Per tutti i cittadini Riuscire ad utilizzare Parte dei tratti Dei fiumi Che attraversano La nostra città E trasformarli In spazi pubblici Accessibili a tutti Ad ogni ora E ad ogni stagione Quindi magari Una passeggiata Ciclopedonale Lungo Gli argini Del fiume Di modo che si potessero Creare anche terrazze Come anche creare Gli aree mercatali Lì Lungo il fiume Con delle rampe Verdi Magari creando Delle aree fitness Parchi giochi Per bambini Nelle schede Elaborate Il fiume Protagonista Come un elemento Di coesione sociale Tra il centro urbano Di Benevento E i quartieri Periferici Come il rione Ferrovie E il rione Libertà Anche con idee Innovative Allora fosse possibile Perché appunto Bisogna approfondire Da un punto di vista Anche idraulico Ingegneristico Creare delle sorte Di atoli All'interno dei fiumi Ovviamente Con il passaggio Dell'acqua Così da transitare Anche con canoe Kayak Piantare Una serie di cespugli Piante endemiche Che vanno a Ricreare una serie Di habitat naturali Ma soprattutto Ripulire completamente L'aria Sono gravi Le condizioni Di Giovanni Limata Il giovane Di Cervinara Detenuto Insieme alla sua Ex fidanzata Elena Gioia Perché accusato Dell'omicidio Di Aldo Il 53enne Di Avellino Ucciso Con 14 coltellate Nel salotto Della sua abitazione Il 23enne Si è procurato Tagli ai polsi E al collo Con il coperchio Di una scatoletta Di tonno Nella sua cella Nel carcere Di Bellizzi Trasportato in ospedale Dove è stato Soccorso e curato È rientrato In istituto Ma le sue condizioni Sono piuttosto serie Intanto giovedì prossimo È fissata Una nuova udienza Al tribunale di Avellino E con molta probabilità Potrebbe saltare Proprio per l'indisponibilità Di Giovanni Limata L'avvocato russo Difensore del giovane Aveva già chiesto Al giudice Una consulenza tecnica Per acquisire Importanti informazioni Proprio sullo stato Di salute del giovane Ed ora Si è in attesa Appunto Della decisione Del giudice Alla Federico Secondo di Napoli Presentato Il primo centro Collaboratore OMS Dedicato Alla diagnosi Delle parassitosi Intestinali Dell'uomo Sentiamo Presentato Il primo centro Collaboratore OMS Della Federico Secondo Di Napoli L'unico dedicato Alla diagnosi Delle parassitosi Intestinali Dell'uomo A livello internazionale Si tratta Delle malattie tropicali Trascurate Che minacciano Oltre 1,7 miliardi Di persone Delle comunità Più povere Della terra Causando Elevata mortalità Soprattutto Nei bambini Combattere Le malattie Che sono Zonotiche Che si trasmettono Dagli animali All'uomo È fondamentale Sono circa Il 60% Anche in questa fase Peste suina africana Influenza aviaria E anche la brucellosi E la tubercolosi Sono malattie Che imperversano In questa regione Che in qualche misura Noi grazie proprio Ad una rite Di epidemia Sorveglianza Stiamo tenendo a bada Grazie a un lavoro Di squadra Che parte dal Dipartimento Di Medicina Veterinaria Coinvolge Questo gruppo Di parassitologia Della Federico II Praticamente Abbiamo introdotto Delle nuove tecniche Diagnostiche In questo campo Oggi Diffuse In tutto il mondo E che l'OMS Ha fatto proprio Importante Intervenire Contro queste malattie Che riguardano Un gran numero Di persone In realtà si tratta Di malattie neglette Di malattie Trascurate Che colpiscono Quasi due miliardi Di persone Soprattutto nei paesi Tropicali E subtropicali E sono un problema Anche nei migranti Che arrivano E quindi noi Porniamo particolare Attenzione Alla diagnosi Al controllo Di queste parassitosi Sia nei paesi Endemici Tropicali E subtropicali Ma anche nei migranti Che arrivano qui da noi Non solo Piazza del Flebiscito E la reggia Di Caserta Solo per citare Alcuni luoghi simbolo Ma anche i templi Di Pestum Si sono illuminati Di rosa Per celebrare La via ufficiale Dell'anno di Procida Capitale della cultura Il parco archeologico Salernitano È stato selezionato Tra i siti Della Campania Che hanno supportato L'iniziativa La cultura Non isola Lo slogan Proiettato Sulla facciata Del tempio Di Atena Luogo Iconico Dell'antica Poseidonia E tra i più famosi Al mondo Un grande Orgoio Per la nostra regione In bocca al lupo Procida L'augurio Arrivato proprio Da Pestum I campioni Del biliardo A 5 birilli Incantano Ariano Grande successo Al Royal Inn Per l'Open Nazionale Ad aggiudicarsi Il titolo siciliano Ciro Davide Rizzo Sentiamo La vittoria del campione Ciro Davide Rizzo Siciliano Ma tesserato Ad ariano È un successo Che proietta Ancora una volta L'Irpinia Alla ribalta Nazionale Unica competizione Dopo Milano E Roma 256 Partecipanti Provenienti Da tutta Italia Scommessa vinta Per Rosario Cavalletti Che già punta Nuovi traguardi Da raggiungere Questa è una manifestazione Importante Però come ho detto Se ci dà la possibilità A ottobre Di poter organizzare Il campione italiano La BTP Per noi è un grande onore Insomma La federazione italiana Ti dà La possibilità Solo se vede Come organizzi Determinate Etappe Come l'Open Nazionale Abbiamo organizzato Nel modo giusto Adesso ci hanno dato L'ok Per poter fare La BTP Riscopriamo Il senso Dello stare insieme E soprattutto Il Come dire Riscopriamo anche Il senso Della speranza Di poter uscire Al più presto Da questa Stramaledetta pandemia Perché si possa Ritornare Insomma Ben presto Alla vita normale Centro sportivo Conosciuto In tutta Italia Perché La nomea Che si è fatta Si è creata Giorno per giorno In base A tutte le attività Sportive Che si svolgono In questo centro Ha fatto sì Che la gara Si è riempito Prima Prima del tempo Previsto Non si fa Tutti i mesi Insomma Quindi C'è Molto sacrificio E quindi È un grosso impegno Che ci mette Rosario Vabbè ma lui Quando fa le cose Che fa sempre La perfezione Era l'ultima notizia Il Tg termina qui Grazie di averci seguito Vi auguro una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti